Non parola, come vi dicevo, per un minuto sostiamo il silenzio, proprio silenzio religioso. Facciamolo per te, perché stiamo vivendo un rapporto particolare con gli divini, la Stato e un segno rimane all'essere di Maria che è il paradiso. Silenzio assoluto, religioso silenzio e apriamo nel silenzio il nostro cuore a badire la nostra mamma celeste. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.